Noi li avevamo aboliti, tranne che per le missioni all'estero sostanzialmente quelle a Bruxelles. Riteniamo che sia una scelta sbagliata perché non solo si torna nel passato, ma soprattutto si dà il senso che questa giunta regionale si occupa di nomine, poltrone e rimborsi. Abbiamo già conosciuto l'aumento degli stipendi dei direttori generali, il raddoppio dei subcommissari dell'ARIC, la fretta nel nominare i nuovi commissari presso i consorsi di bonifica. Insomma è tutto un poltronificio a cui si aggiunge anche la scelta di ripristinare i rimborsi. Voglio precisare che gli assessori hanno già la macchina, l'autista, il telepass e ovviamente a mio avviso potevano farne a meno di questo ripristino. Vengono in secondo piano i problemi veri dell'Abruzzo, il trasporto, le persone che rimangono a piedi, pendolari, la questione della sanità o ancora la questione relativa al grande tema del lavoro e della perdita di centinaia e migliaia di posti di lavoro, ma prevalgono invece gli interessi, tra virgolette, dei rimborsi e dei nominati.